Percorsi di orientamento e tirocini retribuiti per 65 utenti in stato di povertà ed esclusione sociale. Con la pubblicazione del bando di selezione dei destinatari, avvenuta lunedì 15 ottobre, parte il progetto Percorsi Inclusivi, realizzato attraverso le risorse stanziate dalla Regione Abruzzo, con l'avviso pubblico Abruzzo Include. Partner dell'iniziativa, il Comune di Teramo e il Comune di Montorio. Che invito vuole fare oggi? Oggi presentiamo questo progetto Abruzzo Include che stavamo tanto aspettando perché per combattere la povertà anche queste misure sono preziosissime, proprio per dare l'opportunità a chi ha più difficoltà ad avere un'opportunità di lavoro o meglio di farsi conoscere all'interno di un'azienda per poi stabilizzare il rapporto. L'appello che il Comune di Teramo, l'amministrazione fa in questo momento, è quello alle aziende del nostro territorio, che sono sempre molto attente a questi temi, di dopo rispondere al bando che verrà pubblicato nei giorni prossimi, proprio per creare questo borsino delle aziende che sono disponibili ad accogliere questi soggetti selezionati. Che successo potranno avere questi percorsi inclusivi? L'augurio è che possa esserci un successo duraturo nel tempo soprattutto perché a parte la possibilità che viene data a persone in difficoltà che hanno bisogno di un particolare progetto inclusivo, progetti personalizzati per entrare nel mondo del lavoro, la speranza è che dopo possa avere un seguito all'interno delle aziende. Diciamo che in precedenza abbiamo avuto esperienze di questo tipo e ci sono state anche delle buone ricadute sul territorio in termini di continuità, in termini di contratti di lavoro. L'intervento è proposto dall'Associazione Temporanea di Scopo, composta dagli ambiti distrettuali sociali Teramo e Gran Sasso Laga, dall'Agenzia per il Lavoro Human Gest e da CNA Teramo in convenzione con i centri per l'impiego della provincia di Teramo. Voi siete un osservatorio importante sulla disoccupazione della provincia di Teramo, qual è la tendenza? Beh, al dunque, la tendenza adesso è in leggera ripresa, sia nel settore privato, anche se in particolare nei servizi, quindi diciamo ancora l'industria soffre, ma anche, e da qui alla fine dell'anno ci saranno diversi avvisi pubblici delle pubbliche amministrazioni, perché dopo un periodo di stasi anche la pubblica amministrazione riprenderà a fare concorsi.